adesso facciamo anche da questa parte buongiorno amiche oggi facciamo insieme la treccia composta io non la sapevo assolutamente fare ho imparato letteralmente da sola quando la vedevo fare ne ero letteralmente innamorata mi sapeva davvero bellissima la treccia con questo effetto che cambia se viene fatta dalla parte superiore diciamo rotolando le ciocche dall'alto dal sopra oppure al contrario viene nascosta adesso proviamo a farla assieme da questa parte e io la vedevo sempre fatta da altre persone mi piaceva ma non sono mai stata in grado di farla questo quando è nata la regista 14 anni fa io non avevo assolutamente dimestichezza con i video con youtube quindi non ne guardavo probabilmente già all'epoca c'era qualche tutorial ma ahimè io non lo sapevo e quindi ho provato riprovato ho provato riprovato su di me questo per circa io ho pazienza per circa due anni finché ci sono riuscita e ora vi faccio vedere perché mi sta succedendo di fare le trecce molto molto spesso in questo periodo però non ho pensato che come me può esserci qualcuno che non lo trova facile da fare e quindi ha bisogno di un diciamo tutorial comunque di una compagnia di una spiegazione lenta calma come sono io amiche mi dite se non si capisce lo rifacciamo lo faccio ancora più lentamente in modo da capire come si fa e imparare proprio bene 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 perché è molto carino riuscire a farlo sia su di noi che su un'amica magari su nostra figlia e perché no magari anche sulla mamma per un'occasione anche carina sbarazzina una treccia è sempre molto molto adatta e allora proviamo innanzitutto bisogna pettinare benissimo i capelli perché se no amiche se il pettine non passa no vedete già io anche se li ho lisci comunque fanno sempre un po' fatica a essere pettinati con tutto che faccio maschere e tutto quanto non è semplice non è semplice li ho eppure li ho lisci lisci quindi dipende ecco dal tipo di liscio mi viene da dire prima cosa importante se ne dovete fare due fare una riga un po' decente no? diviso qua ma anche diviso dietro io ovviamente amiche ahimè non mi vedo me li pettino bene poi prendo il pettine così e tiro dritto certo senza farmi male divido bene e faccio così di qua l'ho già fatta per un po' diciamo velocizzare io avendo i capelli neri è nero su nero nel senso non è che ho le mescioline se avessi delle mesh probabilmente si vedrebbe meglio l'attriccia però io li ho neri nerissimi e non si vede quasi nulla probabilmente in video allora io provo a farvi vedere e poi al limite mi dite perché io al momento amiche sono da sola qua anzi cioè da sola nel senso in questa stanza però ci proviamo poi semmai la rifacciamo con l'aiuto regista o con la regista che con loro magari scusate lo sgabello con loro magari è un pochino più semplice fare delle inquadrature decenti no? perché io oggi ce l'ho telecamera fissa come nel video della mattina allora aspettate che già c'ho un pelucchio qua e non mi piace allora io faccio così infilo letteralmente qua il dito in dritto vedete e prendo una sezione di capelli abbastanza grande perché non ho pazienza di fare diciamo delle ciocche piccole quindi prendo vedete una bella sezione non importa che sia precisamente dritta e quindi faccio così allora divido e passo aspettate un attimo mica scusate che sono super mega raffreddata mi doveva soffiare assolutamente il naso se non mi faceva il sollettico allora stavamo dicendo prendiamo una sezione di capelli non troppo piccola perché non abbiamo tempo la dobbiamo fare entro quest'anno e poi divido questa sezione in tre uno due e tre ok e se vogliamo che sia in rilievo così la facciamo verso il basso cioè portiamo le ciocche sotto così ok e facciamo il primo giro e di qua adesso con questa bella ciocca prendiamo con questo dito una piccola sezione di capelli e facciamo così la portiamo sotto dividiamo bene perché se no ci strappiamo i capelli e stessa cosa con questa ciocca di qua prendo una sezione di capelli qua dietro e la tiro sotto divido bene i capelli e vado sempre così con un po' di pazienza prendo un'altra sezione di capelli qua tiro non è difficile perché in realtà è una roba veramente semplice però ci vuole un po' ecco di pratica perché secondo me anche se siamo un po' diciamo nervose rischiamo di tirarci i capelli e la cosa diciamo più fastidiosa è quella e via così sempre una ciocca da davanti anche se ne avete tre voi amiche fregatevene del fatto che ne avete tre tanto lavorano sempre quelle di lato poi man mano che intrecciate per forza di cose lavora anche quella diciamo di mezzo perché comunque la state intrecciando come le altre prendiamo anche sempre dal dietro la ciocca diventano sempre più grossi adesso l'ultima qua sulla basetta e tiriamo bene all'indietro perché sennò sbatte nell'orecchia la treccia e dà un sacco fastidio allora spero che stia uscendo decente perché io non mi sto guardando per nulla adesso nell'ultimo giro prendo tutta la sezione di capelli che è rimasta e la porto qua sotto per intrecciarla così secondo me è carino fare il video proprio di spiegazione così perché si capisce forse un po' meglio se non si capisce lo rifacciamo tanto amiche ne abbiamo tempo ne possiamo fare anche uno alla settimana di treccia per capire prima o poi voi provate a farla con me se non riuscite mi scrivete il dubbio e lo rifaccio magari prossima volta la faccio al contrario in sotto che non cambia assolutamente nulla è solo che invece di intrecciare così all'insotto la ciocca viene portata sopra per intrecciare è carina ma secondo me è meno diciamo visivamente è meno dolce da vedere perché poi si nasconde è un peccato che si nasconda la treccia qua non ho tirato abbastanza è rimasto un po' molle mi dà fastidio adesso la sistemo due secondi perché non mi piace così molle quindi quando viene molle così è solo perché abbiamo tirato poco quindi ritorno al punto dove c'era questa ciocca e semplicemente tiro un attimo ecco e finiamo di intrecciare fino alla fine diciamo fino a quando abbiamo capelli perché capelli nel senso regolari pari perché io avendoli molto dritti se arrivo al punto in cui sono un pochino scalati o spezzati escono tutti letteralmente fuori dall'elastico dalla treccia e non mi piace per nulla poi mi piace che la parte finale sia uguale qua adesso le trecce non ci stanno tutte nell'inquadratura ma non importa ci sono fidatevi si sembra un po' pippi infatti io ho un ricordo diciamo ecco non mi piace quando rimangono male qua dalle basette io anche è vero comunque amiche lo sapete la mia età non ne faccio mistero è uscita una un po' più su e una un po' più giù diciamo che forse anche questa cosa di essere non lo so se è vero che dipende da quello segno zodiacale della vergine quando le cose non sono precise come vorrei io che fossero mi urta i nervi mi dà tanto tanto fastidio quindi adesso ne ho una un pelo più su e una anzi un capello più che un pelo più su e una più giù e questa cosa mi dà letteralmente fastidio non mi piace però me lo faccio piacere tanto devo stare qua a casa a sistemare la make up collection ed è una non che non mi veda nessuna amica perché comunque mi vedete voi però diciamo che non è che la posso fare e disfare come il filo di penelope 200.000 volte se viene viene e se non viene pazienza ce la teniamo così mi sembra abbastanza decente abbastanza carina i laccetti sono rosa adesso adesso magari mi metto anche una maglia un po' più carina e iniziamo con la sistemazione della make up collection comunque spero che si sia capito mi pare che sia uscita andi abbastanza bene vedete la treccia praticamente se voi fate la prima sezione di capelli un po' più piccola invece di iniziare qua inizierà più su però a me con le ciocche tanto piccoline da qua su non è che mi piace mica tanto preferisco che ci sia subito un effetto bello di treccia diciamo bella grande perché mi dà anche un senso più carino di ordinato non so come spiegare prossima volta sono super curiosa di farla diciamo al contrario ma soprattutto a me che sono curiosa di sapere se si è capito qualcosa o se non si è capito assolutamente niente di come ho fatto la treccia fatemi sapere come sembra nei commenti tutto quello che vi va se si è capito se non si è capito se siete arrivate fino a qua mi raccomando commentate con la parola segreta che sarà trecce trecce treccione perché in realtà le mie trecce anche se ho una certa amica sapete stavo dicendo prima non faccio mistero della mia età ho ben 43 anni perché sono nata nel 1980 però le trecce diciamo che da piccola non avevo neanche tanto il permesso di farle e ho recuperato da grande mi piacciono tantissimo sono super super comode io mi trovo veramente bene con le trecce mi sento anche sbarazzina mi sento carina mi sento a mio agio e soprattutto mi fanno stare bene e quindi le faccio molto volentieri addirittura addirittura le faccio anche spesso per andare a lavorare in ufficio perché comunque mi sento veramente io mi sento a mio agio come mi vedete voi diciamo come voi mi vedete qua in telecamera io sono anche così fuori dalla telecamera tanto a volte tanto truccata colorata col trucco colorato con le trecce così e anche a volte diciamo con tante tante cose da dire da chiacchierare però ovviamente eccomi che quando sto lavorando tic 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 col computer devo stare zitta e sto zitta però le trecce le ho lo stesso e niente amiche mie questo è diciamo questo è quanto per il video sulle trecce fatemi sapere se vi è piaciuto se volete altri contenuti diciamo tranquilli leggeri anche dove proviamo a fare qualcosina assieme se avete qualche idea di qualcosa da fare diciamo chiacchierato e da fare soprattutto a rallenti diciamo con la mia lentezza normale fatemi sapere è chiacchierato nel mentre che lo faccio chiacchierò anche un pochino fatemi sapere come sempre nei commenti l'immoji di oggi non lo so potrebbe essere quella delle trecce ma non so se c'è un'immoji delle trecce se non c'è l'immoji delle trecce mettetemi un'immoji sorridente dai stupitemi con un'immoji carina come sempre io anche se questo video diciamo è molto soft molto anche corto penso che sia venuto un video super corto se vi va comunque lasciatemi un piccolo like così capirò che questo contenuto comunque vi è piaciuto magari vi è tenuto anche un pochino di compagnia condividete con tutte le amiche e gli amici amanti delle trecce ma del make up e soprattutto della compagnia perché secondo me è molto importante al giorno d'oggi che ormai abbiamo di tutto abbiamo mille oggetti mille oggetti make up fashion tantissimi strumenti che possiamo utilizzare però ci manca un po' secondo me dal mio punto di vista ci manca tanto il fatto di sentirci amati in compagnia e interagire e qua trovate tutto questo perché comunque si interagisce sempre tra di noi si chiacchiera tanto anche nei commenti e per me questa è una cosa bellissima perché è proprio quello di cui avevo bisogno sentirmi in compagnia sentire affetto e interagire con delle persone questo è bellissimo per me e se vi va iscrivetevi al canale perché per me è super super importante che voi vi iscriviate al canale ovviamente l'iscrizione è gratuita e come dico sempre io c'era mancai a Tragosa Aburu io come sempre amiche mia vi mando davvero un bacio grandissimo e ci sentiamo più tardi con la sistemazione della makeup collection con gli aggiornamenti perché oggi sono qua in tranquillità a casa a fare delle cosine quindi se mi viene in mente qualche contenuto interessante da registrare lo registro e andrà in onda nel canale tra oggi domani e dopo domani preparo un po' di contenuti carini magari spero che siano carini da diciamo condividere con voi a dopo amiche buona giornata grazie a tutti